Un'ultima discesa, un'ultima pedalata in bici e poi lo schianto. Erano circa le 6 di questa mattina quando Borgo Santa Maria è stata svegliata all'improvviso da un incidente avvenuto tra strada Montechiaro e via Montegiano. A perdere la vita è stato Ali Arshad, pakistano di 32 anni, investito da un'auto mentre si stava recando al lavoro in bicicletta. La vettura, una Ford Puma guidata da una donna di 54 anni, stava percorrendo la strada principale provenendo da Pesaro in direzione Urbino e non vedendo l'uomo impegnare l'incrocio, l'ha travolto. Un impatto tremendo che non ha lasciato via di scampo al giovane Ali, deceduto poco dopo il tentativo di rianimarlo dei soccorsi a causa delle gravi ferite riportate. Oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti sul posto anche i carabinieri, ai quali ora aspetta ricostruire la dinamica dell'incidente. Da come hanno riportato diversi residenti, il ragazzo abitava assieme alla sua famiglia nelle strutture residenziali di accoglienza in cima a strada Montechiaro e provenendo proprio da lì, all'alba di una giornata lavorativa come altre, si è consumata la tragedia. Un'altra vita spezzata in strada a Borgo Santa Maria dopo quella di Marco Ragnetti avvenuta lo scorso 8 marzo, quando nei pressi dell'incrocio con case bruciate, il giovane sedicenne, invadendo la corsia opposta di marcia, è stato travolto da un camion.